Marta Grande, ecco, c'è. Grazie Presidente. Relativamente alla dichiarazione di voto circa gli ordini del giorno presentati nelle sedute intercorse tra ieri ed oggi, esprimo il mio parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. La nostra Presidente è stata una scelta politica, netta, provocatoria, ortodossa. Decidendo di continuare con la tattica dell'ostruzionismo ad oltranza per tutta la notte, abbiamo voluto dare fondo a tutti i nostri dubbi, illustrandoli nel dettaglio, discutendoli, confrontandoli tra loro. È più che importante che il Paese sappia che non abbiamo semplicemente posto un veto su di un modo di far politica che non ci appartiene. Al contrario, non ci siamo sottratti alla necessità imposte dalla regola della mediazione, arrivando a ridurre gli emendamenti da 500 a 8. Abbiamo lavorato come e insieme agli altri deputati, presentando le nostre perplessità, i nostri dubbi e le nostre proposte. Sembra ora difficile immaginare che tutti i nostri emendamenti fossero in qualche modo irricevibili o non condivisibili. Ci è stato chiesto di collaborare, di essere più cooperativi, più flessibili, di scongelarci. Ebbene, il lavoro fatto da tutti nelle Commissioni è stato la prova che vogliamo contribuire con le nostre idee ai lavori parlamentari. Colgo pertanto l'occasione per chiedere ai colleghi di fare anch'essi, in futuro e nelle votazioni di oggi stesso, un passo in questa direzione di collaborazione. Perché, tralasciando le percentuali elettorali, rappresentiamo una parte del Paese. E far sì che la nostra voce non abbia peso sbilisce il senso più profondo del nostro essere qui, la democrazia. Grazie. Grazie.